L'agricoltura e il delegato di più di 100 paesi in Milano, all'International Forum dell'Agricoltura, Greenpeace enviede un messaggio chiaro in questo caso di Milano. That's why Greenpeace is asking Agricultural Minister to support and scale up real ecologica Ecological Farming solution. People and farmer can't wait any longer. Let's make Ecological Farming fly.